A TerraNuova.it è il nuovo sito internet del comune terranuovese che affianca da oggi quello esistente ormai da tempo dell'ente. Un portale internet dove saranno scritti gli eventi e le iniziative del comune, divise per categorie e argomenti. È questo che si vede dalle immagini il sito internet, già in linea e consultabile da tutti. E già dal nome si comprende un po' quello che sarà il contenuto, perché sarà un sito di facile fruizione, estremamente dinamico, che descriverà quello che succede a TerraNuova. Quindi non solo le opere pubbliche, i progetti e quant'altro messi in una forma ovviamente più dinamica, di immediata comprensione, ma anche quelle attività principali che svolgono le nostre associazioni e tutti i soggetti che animano la nostra comunità. Una sorta di magazzine sostanzialmente che descriverà quelle che sono le opportunità, le occasioni, gli incontri, le iniziative, gli spettacoli che sono presenti a TerraNuova e che permetterà a tutti, non solo ai teranovesi, ma ovviamente anche ai valdarnesi e a coloro che vogliono visitare e fruire degli ambienti di TerraNuova, di descrivergli quello che c'è in quel momento, in quella settimana e quant'altro. Quindi ecco, un sito molto dinamico e speriamo possa essere gradito e faciliti ulteriormente l'informazione, la trasparenza e la ricerca di informazioni.